Per arrivare nei posti ci vuole dai tre quarti a un'ora. Mi raccontavate che anche per arrivare in ospedale ci vuole tanto tempo così. Io ieri mattina a tre quarti d'ora. Chiedono di ripristinare i vecchi orari e il tragitto che l'autobus faceva prima del lockdown. Un gruppo di anziane residenti nel quartiere Poderino a Fano utilizza sempre i mezzi pubblici per raggiungere i vari luoghi della città. Ma ora a causa di una modifica da parte di Adrebus le signore impiegano molto tempo per arrivare anche al Santa Croce rischiando di tardare alle visite programmate. Sono partita qui alle 11.05-10, sono arrivata a mezzogiorno a 10. Prima dell'emergenza sanitaria non era così? No, 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 no. Erano due. Al pincio, su, non erano proprio comodi. Al mare, da pertanto. Dopo dei tre quarti d'ora che giremo il pulmo, vengo al mare da molletto. La linea 8, che fa tappa anche in Via l'Italia, al Poderino, prevede un lungo giro della città. Fano due, Centinarola, Rosciano, Via 4 Novembre, il Pincio, la Sassonia, la stazione ferroviaria e San Lazzaro. Ci si arriva tardi perché bisogna prenderlo un'oretta prima per arrivare più o meno in tempo. Ha capito? Ma non è una ragazza di vent'anni, quanti mesi ne avevo tante, le gambe in fan, quelle in fan. Insomma, ci vuole un po', no? Ci vuole. Allora lei capisce che è un po' scomodo. Così è scomodo. Il tram deve fare quello che faceva prima, giù e su. Basta. La signora Graziella ci ha raccontato di aver segnalato il problema all'azienda Adrebus tramite una mail inviata dalla nipote, ma ancora oggi si attende una risposta. Mi ha detto che mi chiamavano per telefono, ma io l'altro ieri ho riprovato a richiamare e invece di rispondere mi ha messo la segreteria, aspetta, attende, ma non rispondevano più. Ma dopo l'otto hanno detto, ne abbiamo messi tre, io ho detto, ma serva l'acne, ne messo tre, ne fanno per un.